ciao ragazzi, grazie di essere qui con me oggi benvenuti in un nuovo video della serie trova 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 trova, 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 trooca vi devo dire un paio di cose prima che il vero e proprio video inizi e prima che i suoni inizino. Però biete pazienza vi volevo innanzitutto ringraziare per l'enorme supporto che mi avete dato nel video di lo scorso video che è uscito martedì ma in realtà sapete che il video scorso lunedì semplicemente ho avuto un problema e che è il video dei confronti di tutti i miei microfoni fra cui c'era anche questo e tantissimi di voi l'hanno votato per cui ho deciso di riportarlo e se non avete ancora visto quel video andatelo a vedere per poter dire anche la vostra per me il vostro parere è molto importante perché è molto importante sapere che tipo di audio vi piace e visto che l'RS 3D questo mancava tanto e ho deciso di riportarlo so che l'audio sinistro, adesso non so quale sarà la sinistra poi in editing è un po' più vasto rispetto a quello di destra ma cercherò di modificarla in editing e di far risultare la differenza e meno possibile però se la sentite comunque lo so quindi inutile che lo diciate e altra cosa altra cosa questo trovo il tuo trigger sarà un po' diverso dagli altri leggermente perché ho preso spunto da non il solito tag perché non ho preso spunto dal solito tag che si chiamava trigger tag ma ho preso spunto da un tag che ha inventato una ragazza che si chiama Simona il mio canale si chiama Sfericia è una ragazza che fa video smr, è molto brava secondo me e vi lascio il link del suo canale qua sotto e l'ho appunto inventato un tag riguardante di trigger, un tag smr e ero curiosa di farlo e ho approfittato per appunto fare non trovo il tuo trigger quindi ringrazio Simona per l'averlo creato non penso di essere stata taggata da qualcuno ma ci tenevo tanto a farlo che mi sembrava un tag carino questo tag si chiama Fai un trigger tag che è molto simile al trigger tag comunque il primo è Fai un trigger con un libro allora questi non vi ho portato proprio un libro però vi ho portato due riviste la prima è una di quelle famose riviste che si bagnano con la pioggia ultimamente non so voi ma qui piove sempre questa giornata che vedete quindi senza pioggia è un miracolo tra l'altro volevo approfittare dei colori un po' tonnali per avere questo video qui davanti alla finestra perché poi cagano le foglie non ci sarà modo di farlo per un po' il video questo è un catalogo che sta sotto la pioggia e invece questo è una rivista comunque vi porto questo trigger in un altro video per più tempo qui è un'ottima secondo trigger il secondo punto chiede di fare un trigger con un accento rosso il secondo punto chiede di fare un trigger con un accento rosso e io ho questo questo è una fascia porta cellulare per andare a correre che intanto a questa parte plastificata per il telefono per tenere anche impermeabile e il problema mi piace un casino tra l'altro se notate una stranezza su questa unghia è perché è alta e quindi ci ho messo una bustina di tè sopra per tenerla tutta insieme ha un po' di smalto trasparente quindi vedete che è un po' diversa dagli altri ma non ha nulla di che non ha nessuna strana malattia della pelle è un po' diversi è un po' diversi fito cosa vuoi viene an studiale e e così continua is Eva questa è positiva e un altro drinker carino con questo azionto terzo, terzo, terzo punto chiede di fare un drinker con l'acqua o per acqua micellare che mi sta parlando una vita perché praticamente non la uso più uso altre canotte per stoccarmi più eccolo, decidi, diciamo così e la trovo faccia, non sono splendida anche la bottiglietta in realtà mi piace perché dopo un po' che è una schiuma che funziona bata e la trovo faccia Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi piace come io voglia fare un tag, ma in realtà reintrappeto poi sempre tutto. Ok, poi abbiamo una cosa molto interessante. E cioè, il quarto punto chiede di fare un trigger utilizzando il proprio corpo. Era da un po' che volevo fare un trigger un po' particolare, che va diciamo sovrapposto come suono, che è questo qui. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. che puoi schiacciare io in questa bustina di me in questa bustina poi c'è scritto fai un trigger luminoso ora ora come ora non trovo da nessuna parte la lucina quindi non posso fare quello quindi ho deciso di augurarvi la buonanotte e come trigger luminoso farò abbassare le luci ad ogni movimento proviamo magari carino non saprei quindi quindi per sozziare da un corso orate orate abbassare 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 come era? si è notato qualcosa? è un buon entretto e augurarvi una buona 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 notte buona notte si è spenta la videocamera perché scarica quindi sentirete solo l'audio buona notte pasticcini buona notte 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 eee buona notte buona notte Grazie.